Giovedì prossimo 30 gennaio presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli verrà presentata alla stampa la 47esima edizione di Nautic Sud, il Salone Internazionale della Nautica dedicato ad appassionati ed operatori del settore perché possano ammirare le ultime novità e tendenze del mondo delle barche che si terrà dall'8 al 16 febbraio prossimi presso il Salone Internazionale della Nautica che è organizzato dalla Mostra d'Oltremare e da FINA, associazione di filiera italiana della Nautica. Oltre alla messa in mare di un centinaio di imbarcazioni nel calendario delle iniziative e delle manifestazioni sono previste regate, incontri tematici, convegni e workshop. Nautic Sud è ormai il Salone della vera Nautica italiana, quella tra i 4 e i 18 metri e ha un ruolo determinante per il settore. Anche quest'anno è prevista la partecipazione dei rappresentanti del governo, a dimostrazione della considerazione del valore economico e della potenzialità di sviluppo produttivo che esprime il settore. Al Nautic Sud la filiera del mare sarà rappresentata in tutte le sue espressioni in dibattiti, nei quali esperti e tecnici affronteranno le problematiche di gestione delle aree marine protette, il sempre più angosciante tema dell'inquinamento causato dalla plastica e del marine litter, un altro grave fenomeno che mette a rischio l'ambiente costiero. In questa 47esima edizione saranno esposte oltre 800 imbarcazioni tra yacht, motoscafi, gozzi e gommoni e ovviamente saranno presenti le maggiori case internazionali produttrici di motori e quelle del settore servizi e accessori, ovvero tutti quegli attori che rendono Nautic Sud un punto di riferimento per gli amanti del mare per gli armatori. Nell'area espositiva di oltre 50 mila metri quadrati, oltre ai momenti di confronto tra i padiglioni e all'aperto, si svolgerà la premiazione annuale da parte del Comitato Campano della Federazione Italiana Vela e sono previsti anche momenti di spettacolo, compresa la cerimonia di assegnazione dei Nautic Sud Award, la serata di gala in cui vengono assegnati riconoscimenti a personaggi legati alla passione per il mare, la nautica da riporto e gli sport acquatici.